Buongiorno a Vosca Accademia Culinarna presenta i spaghetti stoncicchie molto prosto e voi da gottura e diamo sulle uova spaghetti, mentre ciòs da Patelnia, oliva d'oliva extravergine ciosnec, cebula ostre chili, anchois e mesciame da chi di anchois e rosvalaio non ti comenta dove diamo capari, oliva gelone, olive ciarne e gottura in questo caso nasce tuncic rio mare o cevisce, e chi di spaghetti sono al dente lo mettiamo in Patelnia mesciamo, mesciamo, mesciamo troppo di woda od makaroni come proprio Chef Cucchi dajamo le nostre piccole tuncic rio mare mesciamo il troppo e proviamo e lo mettiamo le spaghetti in un bellissimo talerro e in cima il nostro pietro e il gusto proviamo e inserciente proviamo e inserciente viagra e inserciente evo viagra viagra i viagra